Sarà processata Renata Tosi, sindaca di Riccione, insieme ad altre 26 persone, tra cui un attuale membro della Giunta, per i sit-in del 2014 contro il cantiere del metrò di Costa. Le accuse dalle quali si dovranno difendere la prima cittadina e gli altri sono violenza privata, invasione di terreno e interruzione di pubblico servizio. Quell'estate si fece ancora più rovente per via dell'abbattimento dei pini marittimi lungo la parallela alla ferrovia che doveva fare posto al tracciato del nuovo mezzo di trasporto rapido, il TRC. La protesta, cavallo di battaglia della prima campagna elettorale di Tosi, non ebbe però esito positivo per i manifestanti. Il progetto era infatti ad uno stadio troppo avanzato e non era più possibile arrestarlo. Ma inarrestabile fu anche il tentativo di bloccare tutto da parte di decine di residenti che in tre occasioni, tra giugno e luglio del 2014, si diedero all'assalto del cantiere. Secondo la ricostruzione, alcuni di questi avrebbero persino gettato uova e duri insulti agli operai. La sindaca aveva partecipato a due dei tre appuntamenti e in quelle occasioni le forze dell'ordine ne identificarono i partecipanti. Per loro ora si aprono le porte del Tribunale di Rimini. La data della prima udienza è fissata per il prossimo 15 maggio.